Canova non è pittore, ma aspira a rappresentare qualcosa che è una purificazione delle imperfezioni dell'uomo. L'uomo davanti a lui diventa l'idea dell'uomo e l'assoluto che egli rappresenta in ognuna di queste composizioni. Naturalmente la cosa più interessante per capire come si muove e vedere i modelli antichi da cui è partito, vedere i modelli romani che lo hanno ispirato e vedere come anche da quelli e a quelli lui ha introdotto elementi correttivi, cioè li ha resi come seguendo un principio matematico ancora più perfezionati e da questo punto di vista io credo che questa gipsoteca è il luogo dove è possibile vedere Canova come in nessun altro luogo al mondo. Queste opere che vedete erano nel suo studio a Roma dove è morto e sono state portate alla sua morte nel Veneto dove lui si era costruito il tempio celeberrimo e meraviglioso ispirandosi a un ideale panteo e lui aveva immaginato una ricostruzione del mondo antico sulle colline venete e questa sua fedeltà ai luoghi non gli impone però di rinunciare a una visione che è di una Grecia lontana. Lui porta la Grecia a Possagno e sui colli asolani, forse erano predisposti per accoglierla, così come Mantegna porta Roma a Mantova attraverso la Camera degli Sposi. Quindi sono due processi abbastanza simili di dimensione visionaria perché la cosa paradossale di Canova è che con questa realtà apparentemente così rispettata nelle sue forme non c'è un sognatore o visionario più di lui, lui non vede la realtà com'è ma come deve essere. All'opposto di Caravaggio lui nella sua idealizzazione fa diventare la realtà più bella, il bello ideale è un bello che non può prescindere dalla presenza di Dio. Il Dio cristiano non appare in un travestimento ma appare nel principio di una bellezza assoluta, quell'assoluto è Dio e quindi la dimensione cristiana di Canova è tanto più significativa perché non passa attraverso un'iconografia facile, non ci sono oppure quello che lui in qualche modo sceglie di rappresentare, non sono le immagini dei santi, degli apostoli, della vergine, anche quelli può aver affrontato, come vedete sono sempre riferimenti ai personaggi della mitologia, ai personaggi della storia o del mito e poi come vedete nella parete di sinistra questa impostazione di un modello di tomba che è un modello quello attraverso la cui porta si entra nell'altra parte del mondo, cioè è un passaggio in un al di là. Il monumento a Tiziano e ai Frari rispecchia questo principio che qui vedete in questa meravigliosa composizione. Ecco, io credo che non esiste oggi più una valutazione controversa della sua opera, però è certo che quando noi pensiamo a un grande artista pensiamo a un insieme di emotività, di sensibilità, di passione e qui invece siamo di fronte a una espressione di ragione matematica, ma quando voi andate a vedere il suo assoluto cavolo oro che è la Paolina Bonaparte, di cui qui ci deve essere il gesso, la Paolina Bonaparte in marmo, questo marmo purissimo, è viva, è carne e in quel momento avviene quella trasformazione da un'idea astratta e profondamente distaccata a qualcosa che prende la mano di Canova e lo fa essere vivo. Quando uno guarda Paolina Bonaparte, c'è una meravigliosa fotografia di Berenson che la sta guardando e sembra come stordito da quella bellezza, sente che lei non è più morta, continua a vivere, perché la forza del marmo, di quel marmo è quella di riportare vita a una forma apparentemente inerte e questo vale anche per i bronzi non particolarmente frequentati da lui, per la patina, la patina del bronzo è come il calore dell'epidermide, ecco perché il gesso comunque sia e ogni gipsoteca nel materiale vile di cui è costituita ha un elemento difettivo che è proprio quello che la materia attribuisce alla forma, la forma è assoluta e lo è nei gessi ma ha un di meno di vita che la materia invece del marmo riesce a attribuire e quindi possiamo dire che anche in Canova, anche del freddo Canova, anche del distaccato Canova, anche dell'idealista Canova c'è una vita profonda che è tanto più vita quando lui si distacca dall'opera, quando l'opera esce dal suo dominio, dalla sua mano, dalla sua esecuzione, perfino il bozzetto che ho detto all'inizio e invece viene poi realizzata da un interprete che parte dal gesso e lo traduce in marmo. D'altra parte Canova poi lo riprende per dargli le finature finali che sono il modo per far vibrare ancora di più quella materia finalmente viva, ma tutto questo, ecco tornando al discorso di Argan, lo si intende anche bene come vedremo facendo un piccolo tour, delle terracotte dove lui non ha bisogno di dare la forma finita, la forma chiusa, la idealizzazione degli elementi e le proporzioni perfette, ma deve dare una idea di quello che vorrà realizzare, il peso dei diversi elementi, una composizione nella quale appunto la terracotta è calda della sua mano e avremo davanti quindi delle cose che sono totalmente vibranti, ma sono ancora una fase preliminare e naturalmente imperfetta. La perfezione del marmo è insieme rispetto della forma compiuta e vita della materia, sulla quale evidentemente si gioca la considerazione altissima, qui vedrete per esempio andando avanti un'altra opera meravigliosa che è conservata dal museo di Forlì che è la ebbe. La ebbe è un originale, ma la ebbe che vedete a Forlì ha un colore di bianco dorato quasi, oltre a avere finiture d'oro, che la fa sentire come una dea scesa fra noi, nella sua realtà di divinità e di donna insieme. Ecco, questo è il prodigio del marmo che deve essere sempre il più selezionato e il più levigato che Canova sceglie per le sue sculture. Naturalmente possiamo ricordare di lui anche un'altra cosa importante che al passaggio tra la caduta della Repubblica di Venezia, che lui vede a 30 anni, lui ha 40 anni quando cade la Repubblica di Venezia, quindi finisce un mondo e ne comincia uno nuovo che è il mondo napoleonico, che è il mondo in cui lui può trovare il rispecchiamento dei suoi ideali. Però quando cade Napoleone, ancora per altri 7 anni, fino al 1822, vive il nostro Canova e partecipa alla restaurazione. Il suo rilievo importante è quello di essere un legislatore, quello che stabilisce una serie di principi di tutela del patrimonio artistico che prima non erano così chiari. Quindi la sua visione diventa una visione solenne, la visione filosofica di guardare il passato come se fosse presente e vivo. E tra le altre cose che vanno ricordate di lui è anche l'idea che un'opera d'arte nel luogo dove Napoleone l'aveva presa e portata via spesso, ritornando nel suo luogo, trova una nuova vita. Ricorderete che l'assunta dei fratelli di Tiziano, che lui sicuramente guardava come un grande maestro, benché così lontano da lui, fu portata all'accademia per essere materia di studio, ma in quel luogo, quell'opera aveva perso una parte della sua vita che non è soltanto vita delle forme, ma anche vita spirituale, vita nello spazio, nella chiesa gotica dei frari. Sul fondo vedere l'assunta vuol dire come se fosse sempre stata lì, non è stata messa 300 anni dopo l'esecuzione dell'architettura, ma è un elemento che corrobora e potenzia lo stesso spazio in cui è collocato. Di questo Canova era perfettamente consapevole, quindi a lui si devono alcuni importanti risarcimento del patrimonio artistico, indicando la strada per la tutela che oggi sembra appunto un dato scontato, ma non lo è stato, se voi pensate che prima di lui, prima di questa visione così rispettosa del passato, Raffaello aveva dipinto i suoi affreschi in Vaticano distruggendo quelli di Piero della Francesca, Michelangelo aveva dipinto la sua volta la Cappella Sistiera distruggendo gli affreschi del 400, non c'era una visione di profondità così storica per far rispettare il passato. Lo stesso Palladio, un'altra figura che può essere accostata a Canova, quando a Vicenza agisse sulla Basilica Palladiana parte da un edificio che è come Palazzo della Ragione di Padova, cioè un edificio gotico, siccome non gli piaceva perché era un po' sgangherato, lo riveste con quelle logge che non sono un'architettura ex novo, ma sono un rivestimento di un'architettura preesistente, quindi l'intervento di Palladio è un intervento di violenza sull'edificio preesistente. Tutto questo finisce con Canova, pur avendo questa idea così sublimemente classica, egli ha anche la coscienza di una storia che deve essere rispettata e quindi da questo punto di vista anche il suo ruolo nella legislazione del patrimonio artistico e dei beni culturali è un ruolo storicamente importante. La potenza di Canova è di avere come nessun altro avuto questa visione unanimistica, chi guarda Canova si sente in soggezione, sente il potere alto della bellezza e dell'ideale che viene verso di lui e lo soggioga. Altri artisti, pensiamo al vostro grandissimo Jacopo Bassano, artista meraviglioso, un poeta contadino in cui tu senti una fraternità e un'uguaglianza con i personaggi che lui rappresenta, meraviglioso e forse per qualità artistica insuperabile, superiore anche a Tiziano per certi versi Bassano, racconta però di un mondo che ti fa sentire a tuo agio. Canova ti mette in soggezione, si entra in questa aula sentendo che questo spazio è quello che impone silenzio e attenzione e impone soprattutto di vedere i valori fondanti della nostra civiltà nel mondo antico e nel mondo greco. Qui c'è un ordine assoluto, un ordine del mondo, qualcosa che in qualche modo rappresenta non soltanto un'espressione artistica ma anche un'espressione statuale, questo è il mondo ordinato secondo delle regole che devono essere da tutti condivise. Ecco io credo che nell'allestimento così efficace con questi, vedete i monumenti funebri posti più in alto, le lastre e poi le grandi statue in parte realizzate, qui abbiamo il monumento a Pio VI Storante in cui c'è anche il tentativo di rappresentare la fedeltà di una fisionomia. Ecco io credo che questo sia quello che posso dirvi della mia idea di Canova, mi pare adesso opportuno che insieme alle grandi sculture di gesso andiamo anche a vedere quei piccoli bozzetti in cui sentiamo la sua mano, il suo umore, il suo fiato e la capacità di creare una forma anche con quell'effetto che rende così potente Michelangelo e che era totalmente negletto da Canova che è il non finito. La poetica della statua e i risultati di Canova sono il finito finito, deve essere più finito nel dettaglio. Nei bozzetti invece lui si riserva qualcosa che ci sembra più adatto al nostro tempo che è quello di vedere qualcosa che vedi e non vedi e che rende tanto forte il non finito Michelangelesco perché il bozzetto è per sua natura non finito, è abbozzato e si sente allora in quel abbozzo qualcosa che non è chiuso, non è composto ma è aperto perché fa sentire che anche Canova aveva un cuore e aveva un cuore che non è quello appunto messo nella sua tomba ma è il cuore di un uomo che si emoziona, che sente, che soffre ma che tutto questo però distanzia quando deve comporre il suo monumento solenne e aulico in cui tu non hai più nessuna idea di una sensibilità sofferente o di una qualunque ragione emotiva. Ecco questo equivoco ha fatto pensare a molti che il Canova più bello sia quello dei bozzetti, piacerà senza dubbio, ma il Canova più bello è quello che si allontana da noi per arrivare a una rivenzione assolutamente ideale e toccare attraverso la sua visione il pensiero di Dio.